benvenuti ben ritrovati una nuova puntata di res pubblica sicilia chiama europa noi questa sera nella prima parte di questo appuntamento televisivo torniamo a parlare di un argomento che non smette mai di essere attuale ed è uno di quegli argomenti che crea delle vere e proprie fazioni sono pochi quelli che dicono e secondo me fanno anche diciamo finta a volte di essere poco interessati alla questione di che parliamo stasera parliamo di erice e trapani due comuni una città cioè ritorniamo a parlare dell'ipotesi di unificazione appunto dei territori comunali di trapani ed erice in un'unica città un argomento io personalmente la prima volta il mio occupai giornalisticamente di questa possibilità fu nel 1998 con il giornale tp che che allora muoveva i primi passi nel mondo dell'editoria del giornalismo trapanese e quindi siamo nel 2024 sono 30 anni almeno che puntualmente mi ritrovo devo dire ad ogni elezione o quasi mi ritrovo ad affrontare questo argomento stavolta per fortuna subito una considerazione si inizia o meglio si ritorna a parlare di unificazione di una città fra trapani ed erice assolutamente in un periodo lontano dalle elezioni amministrative che riguardano erice dove si tornerà a votare fra circa tre anni e travani dove si tornerà a votare fra circa quattro anni uno degli dei promoter di questa iniziativa sono in studio ed è il dottore giacomo da lì staiti attuale presidente uscente sottolineamo subito del rotary club di trapani oggi pomeriggio buonasera intanto e grazie per essere qua dottore da lì noi stiamo registrando di giovedì pomeriggio ma in onda siamo di venerdì sera quindi oggi pomeriggio cioè venerdì pomeriggio all'università di trapani sono un comune di trapani due comuni una città un convegno che ha visto dibattere l'argomento professori tecnici urbanisti beh perché no anche filosofi in un certo senso è giusto perché allora come nasce la necessità di ritornare a parlare di questa possibilità perché proprio in questo periodo come mai all'università e poi ci aggiungiamo il fatto che a supporto di questo ritorno diciamo di interesse ritorno di fiamma è stato realizzato un vero e proprio sondaggio ma ne parliamo tra poco dottore da lì sicuramente beh io ritorno un attimo a un anno fa quando non il monitor guardi la telecamera quando venni eletto presidente del rotary club trapani ricordo un club prestigiosissimo che ha ben 73 anni di vita allora nel mio nella mia breve discorso introduttivo dissi che tra gli obiettivi che io mi ponevo c'erano degli obiettivi legati sicuramente all'ambiente sicuramente all'attività di servizio e di facilitazione nei confronti delle fasce della nostra società più disagiate ma il rotary e diciamo e tutte quelle attività ricordo solo il polio plus che è un'iniziativa che il rotary porta avanti da 40 anni e che ha consentito di debellare in tutti i paesi del mondo salvo due speriamo nel 2026 potere dire salvo zero la poliomielite tutto questo è verissimo il rotary è però una struttura estremamente capillare ha una struttura estremamente capillare ci siamo circa un milione e quattrocentomila i rotariani nel mondo e ognuno di noi si occupa del suo territorio sia per cercare di fare e soprattutto per cercare di fare del bene nei confronti delle fasce di società più disagiate ma anche per analizzare e per curare quello che sono i valori e le strategie di crescita del territorio e proprio in questa chiave io dissi io voglio riproporre e capire bene ma non dal punto di vista politico che non mi interessa piuttosto dal punto di vista sociale dal punto di vista della percezione dei cittadini quale è la diciamo di capire la quella io chiamo la anomalia trapanese due comuni una città non siamo il comune più grande della provincia siamo probabilmente la città più grande della provincia ma divisa su due comuni con delle storture che a mio modo di vedere sono molto molto credo che sia oggettivo che le storture esistano poi che come si possono risolvere magari si può lo si può affrontare lo si può immaginare di risolvere in maniera differente ma le storture mi pare che esistano e quindi cercare di capire perché questa idea che probabilmente risale a circa 800 anni fa perché nel 1260 quando trapani era probabilmente solo il porto di ancora solo il porto di erice già si parlava di una unità di questo di questo territorio e in più per me c'è un grandissimo vullus che riguarda erice vetta erice vetta io dico che nella situazione attuale in cui ci sono due comuni che hanno un'importanza piuttosto cospicua erice diventa la perturbazione di una periferia pedemontana di trapani e non ha una sua strategia perché perturbazione è un termine scientifico io ho un background scientifico e quindi perturbazione vuol dire che è qualcosa che ha una una totale marginalità a ok da questo punto da questo punto di vista è una perturbazione se io faccio un un esperimento scientifico e succede qualcosa di che perturba il l'andamento l'andamento normale e quella è una perturbazione e dice finisce purtroppo e ricevetta una meraviglia del mondo intero che ci tutto il mondo ci invidia è infilata nel nel in un comune molto più grande che probabilmente la vede come una perturbazione quindi come spesso è stato sottolineato invece di essere diciamo il faro attraenante appunto non solo di questo lembo di provincia di trapani ma probabilmente di buona parte della sicilia certamente dell'intera provincia di trapani rischia di essere una così una chimera insomma un gioiellino però è poco sfoggiabile in un certo senso come un bellissimo gioiello però tenuto dentro il cassetto per paura che venga rubato chissà che cosa probabilmente probabilmente anche io sono cresciuto anche nel scientificamente nel nell'orbita del di quello che il professore zichichi ha fatto e di quello che il professore zichichi faceva in giro per il mondo sono ho lavorato con il suo gruppo per tanti anni io ricordo che erice era l'erlocandina delle scuole della scuola di erice ma era solo erice vetta erano distribuite in tutte le università del mondo e tutti i gli scienziati o i più importanti cultori delle diverse materie ambivano andare dove ad erice ma lassù sulla vetta è quella erice a mio modo di vedere che chi ha chiamato raccolta per questo convegno che rimette in discussione appunto devo dire che di nuovo cercando di dare un taglio completamente scientifico ho fatto un po un qualche mese di brainstorming dopo la mia dopo il mio annuncio e ho pensato a una persona a un trapanese sicuramente capace sicuramente che ha oggi una grande visibilità nazionale che si chiama pietro vento che dirige un istituto di sondaggi tra i più importanti e tra i più quotati in italia e gliene parlai e lui mi disse che con piacere è l'istituto demopolis e mi disse pietro vento mi disse con piacere sì ma noi dobbiamo partire da un sondaggio dobbiamo partire dai dati scientifici dai dati asettici e dobbiamo dare fare una fotografia cosa che mi ha trovato immediatamente estremamente favorevole poi cosa è accaduto che e ci siamo trovati in prossimità di una elezione politica siamo trovati in prossimità delle elezioni europee quindi ci siamo guardati bene dal promuovere questo riunione questo convegno in un periodo in cui una accusa di possibile strumentalizzazione sarebbe stata troppo facile ma infatti l'ho sottolineato subito mi fa piacere che si ritorni a parlare proprio lontano appunto almeno due tre anni appunto dalle elezioni che riguardano i due comuni erice e trapari dopo pietro vento però chi sono certo dopo pietro vento e immaginando che pietro vento ci faccia la fotografia di quello che ha rilevato sondando e lì correttamente mi ha detto io voglio sondare una quota di cittadini trapanesi una quota di cittadini che io continuo a chiamare trapanesi ma che vivono nel comune di erice dopo di questo ho sempre nel mio nella nostra nel nostro brainstorming assieme a pietro abbiamo pensato che era assolutamente opportuno provare a dare anche il punto di vista amministrativo e il punto di vista socio economico quindi abbiamo coinvolto due cattedratici di primissima qualità il professor guido corso amministrativista dell'università di roma 3 per vent'anni ordinario di diritto amministrativo all'università di palermo poi all'università di roma 3 oggi alla lui squido carli persona dal punto di vista amministrativo probabilmente uno dei maggiori esperti in italia e il professore antonio purpura anche lui uno dei maggiori esperti nella facoltà di economia di palermo che conosce benissimo la realtà trapanese essendo stato anche qui per lungo tempo docente anche nei nostri corsi laurea e conoscendo molto bene la realtà trapanese cosa è emerso dal sondaggio si può dire perché siamo appunto a fine convegno avete detto oggi pomeriggio il risultato io devo dire che la una maggioranza di cittadini che vedrebbero molto bene una possibile un possibile accorpamento una possibile unificazione emerge in maniera abbastanza abbastanza evidente dalle varie domande le domande non sono immediatamente dirette e senza hanno ci si arriva pian piano alla quella che è la valutazione complessiva ma dal complesso e dalla lettura che il il dottore vento fa e si vede che da tutte le risposte emerge una netta maggioranza una maggioranza abbastanza netta sì c'è una minoranza che e lo sappiamo perché le amministrazioni comunali non sono mai state particolarmente favorevoli e hanno ovviamente il loro il loro seguito perché perché sono stati votati quindi quindi c'è una 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 buona minoranza nel sondaggio naturalmente non mi guardo bene dal fare qualsiasi tipo di ragionamento politico che che una buona una discreta minoranza che ha dei dubbi a delle perplessità però la maggioranza da un segnale abbastanza chiaro e nella mia lettura ma ripeto potrei essere biased perché io sono come forse emerso assolutamente favorevole alle ipotesi del genere è abbastanza è abbastanza la lettura e si presta a poca ambiguità quindi chi ha risposto alle domande del sondaggio immagino a questo punto che abbia risposto favorevolmente diciamo all'ipotesi o all'idea di avere la vetta quindi erice la vera erice come un centro a sé diciamo così è quello è una delle cose più complicate perché io stesso che non sono un giurista non sono un economista ho chiarissima l'idea che debba avere una sua dignità autonoma se però mi chiedete come realizzarla se tramite una comunità montana sicuramente non tramite un comune a sé stante perché temo che 300 persone che vivono nella vetta difficilissimamente giustificherebbero un un comune a sé stante però una struttura che dia una grande forza a questa a questo gioiello mondiale io non disdegnerei per esempio di vedere la città chiamarsi trapanierice e poi la vetta avere una sua dignità autonoma e ricevetta avere una sua dignità autonoma amministrativa e la possibilità di progettare il proprio futuro in maniera svincolata dal l'esame benissimo sicuramente che una uno dei motivi che ha fatto ritenere insomma certamente agli attuali due amministratori quello di tramani quello di erice e che fosse poco praticabile l'idea di unificare due comuni è legato al fatto che grazie alle norme europee soprattutto vigenti in maniera di misure economiche essendo due comuni distinti e separati sono riusciti nello stesso ambito per lo stesso progettazione a scuole o altro a prendere due finanziamenti separati quindi una somma se poi andiamo ad unirla maggiore rispetto a quanto sarebbe stata se fosse stato un solo comune questa è una delle tante diciamo questa discrasie che mettono in evidenza quelli che sono contratti a mio modo di vedere ma ripeto non sono un tecnico e per questo ho voluto che l'argomento fosse trattato dai tecnici sia dal professore Guido Corso ma soprattutto dal professore Purpura credo che questo sia abbastanza destituito di fondamento è successo però nell'ambito di una stessa misura dico io vorrei dire sì ma non abbiamo la controprova cioè non sappiamo cosa sarebbe accaduto se si fosse presentata una realtà se una realtà unica strutturata probabilmente avrebbe potuto avere un maggiore un maggiore peso e una maggiore capacità di attrarre risorse comunitarie e nazionali ma quello che mi piace sottolineare è che questa deve essere una lettura veramente a tutto campo non ci si può fossilizzare su un aspetto che è pure fondamentale oggi io mi trovo e mi fa molto piacere ad avere due amministrazioni che sicuramente dialogano sono tra di loro in maniera molto molto costruttiva e va benissimo a mio modo di vedere sarebbe la precondizione ideale per progettare un accorpamento e una riduzione di costi amministrativi una riduzione di una città una città più grande cosa accadrebbe se ci fossero come in passato è accaduto due amministrazioni di segno diverso quello che lei dice sarebbe ancora vero potrebbero le due amministrazioni che magari non dovessero due amministrazioni che magari non dovessero dialogare in maniera così sinergica come e mi fa molto piacere poterlo dire adesso fanno perché sono due persone due persone ragionevoli e molto molto vicine dal punto di vista politico ma se così non fosse probabilmente anche quel risultato che è stato citato prima potrebbe non essere vero ma noi nel frattempo abbiamo creato il comune di Mesiriscemi questo è un argomento che preferisco non trattare per me è stato un preferisco pensarlo come un incidente di percorso seppure per carità la volontà dei cittadini è stata questa e quindi va rispettata nella maniera più pedisse qua ma francamente lo ritengo un grave incidente di percorso una comunità che vuole crescere deve essere più unita più forte non più disgregata oggi credo che il professore purpura questo lo dice ci sono alcune centinaia di comuni che spariscono in italia proprio perché ci si aggrega qui noi abbiamo fatto una decisione abbiamo preso una decisione opposta io lo considero un incidente di percorso dopo questo convegno che succederà? ah questo non è mio compito dirlo non è mio compito è mio auspicio l'auspicio lo posso fare che il dibattito ma soprattutto partendo dal basso venga rivitalizzato e riesumato in maniera forte io ne sarei estremamente felice potere potere e ormai sono sono già avanti negli anni ma potere immaginare che tra alcuni anni ci si possa riparlare in maniera assolutamente concreta della nostra comunità come della comunità trapanese dove la gente nasce a Trapani vive a Trapani e muore a Trapani io ne sarei straordinariamente felice e non posso non ricordare tra le cose che hanno un po' che sono tra il folcloristico e il reale che mi fanno pensare a questa anomalia trapanese io ho insegnato per 40 anni all'università di Palermo e i miei colleghi mi chiedevano continuamente ma come mai ci sono tanti studenti che provengono da Marsala tantissimi studenti che provengono da Erice e nessuno che viene da Trapani non c'è una sola casa di cura a Trapani poi un giorno mi trovai nella strada dove abito e vidi una torponomastica nuova via Gaspare Fodale allora dici oh guarda dovrò cambiare tutte le indicazioni per gli addetti delle poste questa è molto più folcloristica come considerazione e il postino mi disse no 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 lei non deve cambiare nulla perché lei sta sul lato destro della strada e lì è strada Palermo con trada Milo Trapani e il lato sinistro che è via Gaspare Fodale comune di Erice ah dico va bene questo ha rafforzato il mio concetto di anomalia trapanese da dove si dovrebbe partire secondo lei certamente ma secondo un po' il gruppo di studio che ha portato poi all'organizzazione di questo convegno per far comprendere meglio l'importanza di arrivare a un unico territorio dai servizi amministrativi certamente quindi accantoniamolo quindi andiamo oltre dall'unificazione di altri tipi di servizi dall'università da che cosa? l'università è un elemento importante noi siamo all'università di Trapani in comune di Erice e poi però c'è il principe di Napoli che è un altro plesso in comune di Trapani quindi io credo che sia un dibattito che deve come stiamo provando a fare ma io non parlerò di gruppo di studio noi siamo un piccolo Rotary di provincia che ha voluto sollevare ha voluto evidenziare quella che è un'anomalia come si deve andare avanti bisogna che lo dicano veramente i quelli bravi, i tecnici sicuramente dal basso questo mi sento di poterlo dire con molta confidenza è una mentalità che bisogna ancora di più radicare una convinzione che emerge chiara dal sondaggio ma che è necessario radicare ancora di più in modo tale che non solo quando vieni stimolato a dire ma che tu ti faccia promotore di una iniziativa e di non lasciare dire vabbè le cose vanno così lasciamole andare come vanno quindi è dal basso che deve partire e allora le faccio una domanda provocazione non a lei ma in generale il comitato per la grande... sono nati diversi il comitato per la grande città conosco qualcuno ma non faccio parte di nessuno no ok era però una ipotesi di comitato che partiva dal basso ma c'erano sempre politici in qualche maniera hanno fatto male i politici li abbandoniamo e diamo la parola ai cittadini che dobbiamo fare da questo punto di vista non mi faccia dire una cattiveria non possiamo chiedere al cappone di festeggiare il Natale mi sembra giusto quindi eventualmente si riparterebbe da che cosa? da un referendum o da che? ma io credo che il referendum sia non un punto di partenza sia un punto a cui si deve arrivare dopo una accurata prima analisi in cui questo è proprio un embrione questo sondaggio è un embrione ma l'analisi deve essere ancora più accurata ancora più approfondita bisogna parlarne tanto continuamente per un periodo che probabilmente coprirà queste legislature di cui stiamo parlando e poi sì e poi il punto clou dovrà potrà spero che sia questa iniziativa di oggi pomeriggio nasce appunto dal suo anno di presidenza del Rotary Club Trapani è scaduto a breve ci sarà passaggio di campana appunto che succede? diamo seguito oppure è stata così una cosa lanciata? io spero che daremo seguito io ho avuto questa forte volontà ma ne abbiamo parlato molto anche con il presidente Incoming che ha sicuramente supportato questa mia questa mia iniziativa ricordiamo chi è sì il dottore Gino Caruso Luigi Caruso ma addirittura io avrei voluto fare il presentare questa iniziativa questa iniziativa durante il mio anno ripeto fino al 9 giugno è stato impossibile c'è l'elezione europea poi la impossibilità di trovare tutti gli attori che fossero contemporaneamente presenti ci hanno portato al 28 giugno poi e qui devo dire con molta franchezza e con molta contentezza che ne ho parlato con il sindaco di Trapani e il sindaco di Erice che sono presenti all'iniziativa e hanno preferito ma lo abbiamo concordato insieme non fare la pasterella prendo il convegno ma dire la loro dall'interno del convegno e non possono non dire la loro i primi cittadini di queste due splendide realtà io direi di questa splendida realtà divisa a metà o quasi a metà e hanno avuto il piacere di aderire di intervenire nel corso di questo di questo io l'ho chiamato incontro tematico e mi fa piacere che abbia questo sfondo non è un convegno non è un congresso è un incontro tematico solleviamo un tema il parlare di unificazione di grande città di unica città è un tema di destra di sinistra di centro destra di centro sinistra non mi interessa io devo dire che non ho mai avuto nella mia vita o naturalmente nelle mie idee politiche non ho mai avuto il distintivo di un partito ho sentito ho letto una vecchissima cioè una recente indicazione di un vecchio sindaco di un'area che era molto centrista un vecchio democristiano che parlava di grande città con passione quindi credo che non è quello il punto non è un argomento di destra o di sinistra allora la riforma la domanda però lasciando stare da parte la politica è un tema per giovani per vecchi per chi si trova a metà strada per me è un tema per giovani è un tema per giovani perché la mia sicura convinzione è quella che una strategia di sviluppo di questa nostra comunità non può prescindere da una attentissima ipotesi poi c'è chi parla di rettifica dei confini io non sono particolarmente entusiasta ma ripeto non sono un tecnico quindi magari però sicuramente questa comunità ha bisogno di progettare il proprio di traguardare il proprio futuro attraverso una maggiore coesione ripeto oggi abbiamo la fortuna di avere due sindaci che parlano che parlano la stessa lingua ma domani o come è stato nel passato o domani non lo sappiamo non 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 beh io intanto la ringrazio per il coraggio di aver rimesso in piedi una discussione che era assopita o assopita insomma assopita ma non non era morta ma obiettivamente lei sa che io sono di quelli che ha sempre sposato l'ipotesi della grande città in generale per cui la ringrazio davvero per aver riportato in auge quantomeno in questo momento la discussione la invito a a non lasciarla riassopita speriamo perché non mi si chieda di una una posizione chiaramente politica che io non intendo assumere è stato con noi il dottore Giacomo Dali Staiti il presidente oscente del Rotary Club di Trapani noi abbiamo parlato appunto di un convegno che si è tenuto oggi pomeriggio abbiamo registrato però il giovedì pomeriggio quindi per chi ci sta seguendo domani nel TG nei prossimi giorni daremo appunto l'esito complessivo anche del sondaggio che è stato realizzato degnamente dall'Istituto Demopolis diretto da Pietro Vento adesso parliamo di libri parliamo di un'altra indagine con Gaspare Grammatico Trapanese Doc tra poco di un'altra indagine di un'altra indagine di un'altra indagine